1 di 3 centurioni Ha pure un bel penisus potrebbe uscire di qua ragazzi è vero Vediamo questo pic a cosa ci riserva Vai nel mio account Vai let's go Let's go Vabbè 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 dai questo è mezzo carino Dai è mezzo carino questo qua 1,2,3,4,5 Vamos Siamo pronti siamo carichi Ok mignone Praticamente mo che hai preso la 5 Cioè se ne avessi preso 4 che 5 Oh bello Prendi i peli si è forte con l'architetto la 5 No Paco no Dai vabbè tutti gli occhi Assolutamente mi dissocio Mi dissocio Vabbè ti è Hernández Magari potresti prendere Vabbè ti è Hernández prendere E' mezzo a Torino Si puoi andare Claude Stiamo guardando Vai tranquillo Quando vuoi aprire Siamo già da te Siamo già da te Sperando di sculacchiare qualcosa di bello ciotto Ma infatti Ok Forse mettere i Ma io non so se ce l'hai Se ce l'hai scambiabile A quanto pare no E dai eh Aspetta no Aspetta mi Paco Refidati Ma tu che è brutto questo Vabbè qua mi sa che ti tocca prendere tipo Will Vediamo un certo La reattività ragazzi Sono dei migliori su old gen Io dico Per chi è da old gen Aspettate E' fortissimo Una cinque Spera sarà fortissimo Bello verrà Tipo Verratt è carino Però dai C'è tutto bene Altro picc'altra corsa Vediamo cosa esce Attenzione Vabbè Bremer Bremer Se non l'hai sbloccato Ma che freddo E' carino Per il meme Vai Attenzione No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Per il meme Vai Attenzione No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Vai Vediamo un po Vabbè dai Verratti Manco brutto Verratti Vabbè dai Ci mi parli Ci mi parli